Pomeriggio di arrivi, quello di ieri con l'US Avellino che ha ufficializzato gli acquisti Daniele Franco, Richard Gabriel Marcone e Giuseppe Guadagni. I primi tre calciatori che vestiranno la maglia bianco-verde e che vanno a riscrivere la formazione per la stagione 2022-2023. Non a caso il club ha presentato Marcone come nuovo portiere della società. Chiaro segnale di rottura, consentiteci il termine, con Francesco Forte che non rientra nei piani del tecnico Taurino. Dopo averli visti nei giorni scorsi ricarsi presso le strutture autorizzate per le consuete visite mediche, i calciatori sono stati ufficializzati sui profili social della società. Tre acquisti di spessore che vanno a rinforzare determinati ruoli del campo pronti a dare il proprio contributo. Una voglia di scendere è ben evidenziata dalla presenza ieri sera al torneo Dino Gasparro di Franco e Guadagni che hanno voluto subito conoscere i loro nuovi tifosi. Intanto questa mattina si sono svolte le visite mediche di Simone Uriletto e Manuel Ricciardi, due nei acquisti dell'US Avellino. Primo incontro al centro stato di Avellino, sito nei pressi dello stadio Partenio, poi presso la clinica Santa Rita di Atripalda. L'Avellino della stagione 2022-23 sta prendendo forma e sono già 5 i nuovi volti visti ad Avellino. Nelle prossime ore ovviamente è atteso il comunicato del club.